Io sono nato che i nostri difensori, quando si battevano le punizioni laterali, si mettevano dentro la porta e uscivano incontro alla palla. Oggi è cambiato il calcio. Che cosa notate? Difensori altissimi e poi scappano dentro la porta. Io gli voglio far capire una cosa al mio difensore. Se tu scappi verso la porta e poi devi ributtare la palla, per me fai un movimento che sta in difficoltà. Per me è più avvantaggiato la punta che corre dritto, la spizza e ti fa go. Tu scappi all'indietro e poi la devi buttare. Io gli ho detto, ragazzi, ritorniamo a quando giocavo io, ci mettiamo bassi? Mettiamoci bassi. Quando arrivano queste palle, il difensore che fa? C'è la frontale la palla. Sì, però l'attaccante mi attacca, mi può anticipare. Allora facciamo due linee. Una di contrasto e una di ricerca della palla. Per me è molto di più avvantaggiato un difensore che guarda la palla frontale, che non un difensore che scappa dentro la sua porta e poi devi fare una torsione per buttare via una palla. Quando io invece vedo l'attaccante che mi viene dritto, ha più forza. Perché ha più forza? Perché io corro all'indietro. Provate un attimo a correre voi all'indietro o di lato e io corro frontale. Vediamo chi è più veloce o chi è più potente o chi può saltare. Però sai, il calcio è fatto dei modi, purtroppo. Oggi i grandi allenatori hanno deciso che ci vuole questa linea alta, no? Ma la linea alta, la palla dove si mette, secondo voi? Sulla linea o oltre la linea? Bravo, sai di entrare l'allenatore. Oltre la linea. Quindi oltre la linea, che significa? Io quello spazio io lo toglio. Con che io lo tolgo? Con che io lo tolgo? Solo con una cosa. Con il coraggio del portiere. Ma il portiere, lo vedete? Un portiere che esce e ce ne sono dieci giocatori suoi e dieci avversari che se li vedono tutti in faccia. Perché questa poi è la realtà. Perché su queste palle che mettono nell'aria, io lo chiamo nello spazio di nessuno, perché se la vanno a prendere gli attaccanti, il portiere rimane su a riga di porta, non si muove. Perché dice, dove vado a fare sta figuraccia? Ma anticipano, mi fanno il gol. Non ci arrivo. E quindi per elevare queste cose, io voglio abbassare molto la riga, che se la mettono oltre la riga c'è il portiere, è pronto, perché sta a due metri. E' un conto che gli lasci dieci metri. Queste sono studi, sono cose. Io ho detto a Coverciano, ma perché vent'anni fa era sbagliato? Ma che significa vent'anni fa se faceva? Ma dobbiamo cambiare mode. Grazie. Grazie. Grazie.